Buongiorno signori, oggi parliamo di carta famiglia che arriva potenziata e a breve, davvero stavolta, sarà richiedibile online sul portale del Ministero. E parleremo anche di quel piccolo aiuto appena introdotto per i lavoratori autonomi. Io sono Mr. Lu, se vuoi diventare anche tu un lavoratore ipervitaminizzato, beh che te lo dico a fare? Iscriviti al canale, attiva la campanellina, segui il video fino alla fine, ma soprattutto condividilo. Ma adesso, bando alle ciance, parliamo di carta famiglia potenziata e 500 euro per gli autonomi. La carta famiglia di cui abbiamo già parlato qui viene in via straordinaria estesa per il 2020 a tutte le famiglie con almeno un figlio a carico, fino a 26 anni di età, che risiedono però nelle regioni più colpite dal contagio. Inderoga quindi alla norma originale che la riconosce invece solo alle famiglie numerose. E soprattutto, rullo di tamburi, il portale per richiedere la card sarà disponibile dalla prossima settimana. La SOGEI riferisce addirittura che è questione di ore, speriamo sia vero. E veniamo adesso ad un altro provvedimento straordinario varato ieri. Il riconoscimento di un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o dei professionisti che svolgono la loro attività, or siano residenti e domiciliati, nei comuni della cosiddetta zona rossa. L'indennità verrà erogata dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Credo, ma è solo una mia opinione, che si sarebbe potuto fare un qualcosina in più per i lavoratori autonomi. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che possa esservi utile. Vi farò sapere al più presto per la carta famiglia, facciamo magari un bel video sul portale quando sarà effettivamente online e su come richiedere questo beneficio. E noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.